Dopo il patto di convivenza consapevole che il Comune di Napoli ha recentemente messo a punto con residenti e gestori dei locali per regolamentare orari e condizioni della vita notturna, l'amministrazione comunale istituirà la delega alle Notti Napoletane. La richiesta è della nuova associazione denominata Notti Napoletane che unisce i rappresentanti della Movida Cittadina nelle zone di Aniello Falcone, Bagnoli, Centro Antico e Chiaia con l'obiettivo di assicurare il rispetto e la convivenza tra istituzioni e cittadini. A tal fine è impegnato anche il Comune che promuove periodicamente un tavolo di monitoraggio presso l'assessorato all'ambiente e che in sinergia con le associazioni di operatori economici e commerciali porta avanti un percorso che mira ad estendersi a tutte le zone della città interessate dal fenomeno della Movida. Ci sono ulteriori passi in avanti perché in questi mesi, in questi anni c'è stato un grande confronto con gli operatori commerciali, economici, con i residenti, con i cittadini. Abbiamo cominciato con la firma del patto di convivenza consapevole che è un passo in avanti straordinario dove gli operatori economici soprattutto si fanno carico di numerose cose e prendono degli impegni precisi. L'amministrazione comunale sta facendo un lavoro di organizzazione e di coordinamento importante. Adesso un ulteriore passo in avanti l'associazione Notti Napoletane che significa la consapevolezza che la notte diventa un qualcosa di peculiare, una grande opportunità, anche una certezza del momento che sta vivendo Napoli, ma anche quello di fare ogni sforzo tutti insieme per prevenire invece situazioni che poi sono anche spiacevoli certe volte dove non si trova quel punto di equilibrio tra chi fa attività economica, chi vuole vivere la notte e chi però anche vuole riposare, vuole avere il diritto a riposo, alla quiete. Tra le richieste dell'associazione Notti Napoletane all'amministrazione ci sono la convocazione degli stati generali della notte per poter analizzare il fenomeno e trovare soluzioni, la promozione di una duplice campagna di sensibilizzazione rivolta agli operatori e all'utenza ed un progetto che coinvolga tutte le municipalità per individuare una regolamentazione specifica in base alle esigenze delle diverse aree. Abbiamo la possibilità così di far emergere operatori improvvisati, di far emergere abusivi e soprattutto di attuare una catena tra operatori, tra enti locali, municipalità, insomma abbiamo così coinvolto tutti perché passeremo adesso al secondo step di questo percorso che è quello del coinvolgimento dei cittadini e dei comitati. Siamo particolarmente soddisfatti perché non è stato facile mettere insieme gli operatori, non è stato facile affrontare un tema che dalle altre parti con le cosiddette ordinanze improvvisate per fare un po' di titoli non hanno funzionato e invece con delle regole, con un rigore, con anche una capacità di analizzare il fenomeno, c'è stato uno studio alle spalle molto importante, una lettura del territorio e questo ci ha consentito di avere un primo risultato. Per chi invece ritiene di vivere in una situazione di illegalità, che non accetta nessuna regola, nessun patto, che non si adegua alle norme, scatterà prima la deterrenza e poi la sanzione attraverso le ordinanze per quella che è la nostra competenza e poi per le attività di prevenzione e individuazione dei reati per quello che è il compito delle forze dell'ordine della nostra città.